Però chi ti comprime la rabbia è una persona trasgressiva che detiene un potenziale su di te, altrimenti non ti fai comprimere la rabbia. La venere, se non capisci di cosa si parla, stai attenta, non capisci, e stai attenta, arrivi adesso a rompere le scatole, stai attenta se non capisci, segui, e zitta. Allora, adesso stiamo comprimendo anche la rabbia, la venere, non disturbare, segui, stai zitta. Stiamo comprimendo anche la rabbia della venere, ma te è normale che non capisci, non hai mai capito niente, vuoi iniziare a capire adesso? Non è possibile. Cioè, rassegnati che tu non capisci, tu devi vedere come un film mutuo, stai qua e devi semplicemente sentire il suono delle parole, devi sentire il suono delle parole perché è normale per te non capire le cose. Quindi mettiti l'anima in pace, senti il suono, fai finta di ascoltare la musica, fai finta di ascoltare la musica, Eli, ascolta, ascolta il suono, e poi tanto non c'è possibilità che tu capisca, non ti preoccupare.